Era chiusa dal 14 ottobre a riaperto al traffico di auto, ciclomotore e furgoni questo pomeriggio. Strada Carloni, futura circonvallazione di muraglia intitolata Enrico Berlinguer, torna a dare respiro al traffico cittadino che negli ultimi quattro mesi e mezzo si era caricato su assi stradali più prettamente residenziali. I lavori di società autostrade hanno concluso oggi una prima fase di lavori ma continueranno la costruzione della bretella fino al completamento dell'8 di agosto ma senza inficiare sul traffico veicolare. Data che da cronoprogramma dovrebbe contrassegnare la fine dei lavori e il completamento dell'interquartiere cittadina nelle sue asse più meridionale. Un'opera strategica ma anche una riapertura odierna funzionale alla partenza di altri cantieri stradali messi nell'agenda comunale. E' chiaramente questo un lavoro molto importante che ci porterà in città circa 70 milioni di euro di lavoro che sono quelli complessivi che società autostrade realizzerà nella nostra città. Questo lavoro ha avuto un leggero ritardo dovuto anche alle condizioni meteo che non sono state più favorevoli in questi mesi di gennaio e febbraio soprattutto. Ci permette anche l'apertura di via Carloni e l'inizio dei lavori su via Fratti. Lunedì 13 inizieremo il cantiere per la realizzazione della ciclabile di via Fratti. Contemporaneamente andremo a chiudere per un paio di settimane la strada di case bruciate sempre per lavori complementari per la realizzazione dei lavori di società autostrade. Il lavoro sul cavalca ferrovia che inizieranno presumibilmente a metà marzo. Quindi è una città che si muove, una città che si muove con tanti cantieri può creare e causare anche alcuni disagi. Per questi disagi che sono motivo alcune volte di critica, noi ovviamente amministrando la città ce la prendiamo però l'obiettivo finale è il bene comune. Quindi al termine di tutte queste opere previste e attese da tanti anni diciamo che i benefici saranno importanti.